Un ricco programma di eventi per celebrare 50 anni della regione Piemonte e 15 anni dello statuto regionale. Stato presentato nell'aula di Palazzo Lascaris alla presenza dei presidenti del Consiglio della Giunta Regionale Stefano Allasi e Alberto Cirio, di consiglieri e assessori e di numerose autorità delle istituzioni del mondo imprenditoriale. Mostre, eventi sportivi, pubblicazioni, progetti per ripercorrere la tradizione e gli avvenimenti di 50 anni di storia e cultura regionale. Per l'occasione è stato studiato un logo, il numero 50, sormontato dalla bello azzurro, riconducibile agli stilemi dello stemma regionale con all'interno il nome degli oltre mille comuni che compongono la regione. È un traguardo importante per la regione, indubbiamente 50 anni di valori comuni, come abbiamo anche descritto poi nella presentazione di oggi del logo stesso, dei cinquantenario dell'istituzione della regione Piemonte dal 1970, si è fatta tanta strada assieme come istituzioni con le istituzioni su tutto il territorio piemontese. Tante manifestazioni sul territorio che rappresenteranno i piemontesi, quelli vecchi e quelli giovani futuri, soprattutto anche con un occhio risvolto verso il futuro, verso i bambini. Due gli eventi principali, il 23 marzo per il quindicesimo anniversario dello statuto regionale e il 13 luglio per celebrare il cinquantesimo della prima seduta del Consiglio regionale. Le celebrazioni offriranno l'occasione per fare il punto sul ruolo del Piemonte anche in una prospettiva futura. Siamo una regione che sicuramente ha saputo fare grandi cose, siamo però anche una regione che oggi ha problemi che tanti anni fa non aveva ed è il motivo per cui con la Costituzione, con gli articoli 116 e 117, la possibilità di ricontrattare il modo con cui la regione Piemonte può stare in Italia, io credo potremmo superare anche qualche acciacco. Il programma completo delle iniziative per il cinquantesimo anniversario della regione Piemonte. Piemonte. Piemonte.